benvenuti in un podcast di voci in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco in mondi affascinanti ed immaginari un podcast di appassionati curiosi e sognatori un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace io sono antonio benvenuti su gente di ruolo benvenuti a tutti bentornati su gente di ruolo come sempre io sono antonio in questa campagna di band of blades forged in the dark che ci sta portando in questo in questa scoperta dell'alvermark versus sky dagger keep con me come sempre i tre giocatori che fanno danno vita a questa campagna dario giacomo buonasera e nilo che in tre interpretano le molteplici facce di questa legione alcune più belle altre più brutte ma comunque tante variegate allora l'ultima volta siete siete entrati a fort calisco con una missione che ha avuto come dire toni toni molto contrastanti in realtà secondo me nel senso che da un lato voi avete totalmente brillato viceversa il chosen se le è prese di santa ragione quindi d'altra parte ha sfidato render che è praticamente l'incarnazione del come dire del combattimento in mischia detto questo comunque è riuscito a guadagnare il tempo necessario per far entrare la legione a calisco e per far ripiegare coloro che hanno compiuto l'impresa di sostanzialmente distruggere o sabotare la la fabbrica delle delle macchine d'assedio di di render e quindi fate gli xp dell'ultima volta facciamo il reward di missione siamo a fine missione e con questa missione obbligata per entrare a calisco guadagnate più tre punti di morale e due modifiche sostanzialmente che ci dicono che questa missione è venuta in un tempo molto veloce cioè meno uno al tempo che in pratica andrà a compensare poi le modifiche del tempo che passa e il fatto che la pressione non aumenta durante questa fase e anche questo sostanzialmente andrà poi a compensare le modifiche del del tempo che passa quindi comunque per fare dirigenti io aggiorno il clock del tempo e ci ricordiamo che la prossima volta non dobbiamo cambiare il il tic di pressione fatti i reward aggiustamenti di morale a causa delle morti avvenute ma non abbiamo avuto morti non abbiamo missioni secondarie che hanno generato morti quindi siamo siamo a posto a questo punto di vista a questo punto siamo alla scena back at the camp quindi prima di farla però visto che è difficile trovare il come dire il tempo in cui la legione che normalmente è accampata è ferma in attesa che la missione venga eseguita perché in questo caso tutta la legione fondamentalmente era coinvolta nella nella manovra io la scena del back at camp proporrei di metterla una volta entrati a fort calisco quindi sostanzialmente nell'immediato nel tempo successivo a quello che a quello che noi abbiamo appena giocato se non mi sbaglio il tutta la vostra missione in che tempo del giorno era avvenuta mattino era alba era mattino presto perfetto non volevo dirlo per non influenzarvi ma sì anch'io avevo l'impressione che fosse fatta con le prime luci quindi quando entrate a calisco avete tutta la giornata tutta la giornata davanti quello che vi viene detto beh allora vi dò un po un'immagine di calisco calisco è una grossa città una grossa città fortificata ospitava probabilmente quando l'almer mark era una nazione ricca e fiorente qualche migliaia di abitanti che vuol dire una grossa città per i tempi è una città estremamente fortificata perché per per la propria la struttura dell'almer che essendo un passo obbligato verso quelli che sono i confini est mentre alla fine skydagger è la come dire la marca di frontiera che teneva al passo del confine orientale calisco è in realtà proprio la postazione militare che governa invece le terre di confine quindi ha sempre avuto un'importanza militare notevole ed è stata nei secoli fortificata per questo siete dentro una città che immaginatevi abbia tra le due e le tre cerchie di mura costruite le une sull'altra via via allargando il cerchio di mura costruendo corti d'armi vicoli ciechi torri per come dire per dominare il paesaggio esterno e quello interno nel caso una cerchia di mura andasse a cadere quindi veramente un'opera dell'ingegneria militare quello che trovate quando entrate è un posto estremamente cosmopolita effettivamente la legione con tutta la sua varietà di appartenenze non è fuori luogo in questo ambiente vedete effettivamente gente provenire da tutti gli angoli noti del mondo qui dentro come anche vi è chiaro che la città ad oggi ospita un numero molto più esiguo di abitanti rispetto a quella per cui è progettata e la grossa parte di sguardi che incrociate e di persone che vedete muovere capite subito che è personale militare tutti quanti dall'impostazione dal dallo sfoggio evidente di armi armature dal fatto che si muovono in gruppi e tutti quanti sembra sappiano dove stanno andando e a fare cosa vi rende l'idea di essere praticamente dentro un enorme fortezza puramente militare questo è il quadro generale quando arrivate venite come dire venite accolti brevemente vi vengono assegnati degli alloggi che vedete sono appunto in un quartiere che probabilmente prima era un quartiere civile e che adesso è stato sgomberato per per il vostro arrivo e agli altri ufficiali quindi sostanzialmente comandante quarto armastro maresciallo viene viene recapitato un invito da parte del tenutario della città colui che amministra l'ordine qui dentro lo conoscete per nome nel senso che con questa persona avete già parlato già interagito durante la campagna di riconquista dell'aldelmarca quindi tutta la campagna militare che vi ha portato fino a etan mark e è un alto generale dell'esercito del mani e si chiama janacus orhan e il suo titolo è il caimahan che è sostanzialmente il titolo di alto generale era uno dei primi ufficiali dell'esercito ad oggi probabilmente il più alto in grado tra i sopravvissuti della della milizia dell'aldelmarca vi dice vi come dire di riceve molto velocemente dando semplicemente l'ordine di mettere tutta quanta la legione innanzitutto a suo agio però entrosera avere tutti gli ufficiali che sarebbero in pratica gli specialisti voi e tutti i capi squadra vestiti riordinati per una per una cerimonia nella corte d'arme principale del castello questo è proprio quello che succede immediatamente al vostro arrivo fate conto che in un'ora succede tutto questo da qualche indizio su cosa comporta la cerimonia lui no c'è probabilmente un come dire un suo ufficiale sottoposto e cose del genere vi dice che visto che siete arrivati il generale farà la presentazione della legione a tutte le forze presenti in presenti a calisco è una specie di cerimonia militare non vi danno i dettagli se non il come presentarvi quando presentarvi dove sono i vostri posti assegnati nella corte immaginatevi quelle cerimonie con davanti i come dire gli altri ufficiali poi dietro divisi per linee tutti quanti gli specialisti le squadre gli standardi tutta una roba del genere questo è come dire in poche parole quello che voi subito capite non è una parata però quasi il back of the camp che vi proporrei in tutto questo parte da questo prompt che mi fa rievocare una cosa che è stata come dire fino adesso è stata colore ma non abbiamo mai avuto il tempo di discutere con gli occhi della legione e il il prompt è questo una tempesta oscura il cielo e le chiacchiere le speculazioni cominciano a diffondersi nella legione e sostanzialmente c'è il fatto che noi abbiamo visto in quella scena finché voi approcciavate fort calisco la cenere scendere dal scendere dal cielo scendere dalle nuvole e il vostro chosen dirvi che quella era la cenere di panier però come dire secondo me manca manca il punto di vista della legione non è detto che tutti nella legione sappiano questa cosa non è detto che tutti l'abbiano presa nello stesso modo e e quindi il back of the camp ci permette di capire quali sono le speculazioni che la la gente si sta facendo di questa di questa cosa il cielo effettivamente continua a a piovere cenere e l'alba è un'alba un'alba pallida a cui segue un giorno un giorno nuvoloso in cui via via appunto il il cielo si scurisce si sentono tuoni in lontananza non piove però soffia forte il vento a raffiche e come dire le nuvole si gonfiano si spostano velocemente e continua a piovere questa cenere ditemi voi oppure direttamente il maresciallo chi è chi è che come dire chi sono gli occhi da cui vediamo questa questa scena finché probabilmente o vi preparate per la cerimonia oppure state sistemando il campo domanda il nostro chosen è tornato è k.o.? allora il punto è non ne hai non ne hai notizia l'avete visto volare via in forma come direi in forma di di falco che è quello che di solito usa per muoversi volando verso la città ma non come dire non avete notizia di dove si è arrivato e non non avete ripreso i contatti in queste in queste ore immediate ok e lui non si è palesato io farei anche questo può stare sulle speculazioni perché comunque è quello che farei un bel terzzetto di specialisti oh bello facciamo i tre personaggi dato che è il momento diciamo grosso prendiamo i tre personaggi chiave che immagino ci sentiamo più legati a giocare cioè Korov Seneca e la mia carissima Amber se invece preferite un altro specialista calcolate serenamente va bene così io cambierei con lo scout tanto che anche quella va in giro in missioni secondarie ma un pezzo che non la vediamo e probabilmente a Korov non ne frega niente che può piovere quello che vuole Korov è ancora bombato di adrenalina di quello che ha finalmente fatto dopo mesi che aspettava di fare il lavoro fatto come voleva lui adesso come dire gli è riuscito il filotto stamattina e ha altro a cui pensare finché non piovono coltelli solo perché a quel punto deve mettersi un elmo Korov kill scalfisce piovono coltelli è una citazione vero beh sì diciamo che è troppo iconico per non non farselo venire in mente ok bene allora sappiate che ci sta che vi è stato detta questa cosa quindi sapete che dovete prepararvi come dire in busti e merletti per per la sera quindi avete questa informazione non è detto che vi stiate già preparando o cosa nella giornata avete anche un come dire un veloce pranzo che vi viene servito come dire con con rancio che che arriva e vedete voi dove dove settarla l'ambiente è questa città praticamente interamente costruita in pietra con questi che una volta erano quartieri quartieri artigianari quartieri popolati adesso è tutta un enorme caserma praticamente o almeno per quello che avete visto fino adesso volete un luogo e ora ve la lascio a voi ma mi vedo cosa che non abbiamo tanto esplorato in realtà il barone che sicuramente durante questi mesi ha discosto nei pochi momenti liberi con Seneca da punto di vista di conoscenze da una parte più sul meccanico e dall'altro più sul chimico-alchemico e quindi sì probabilmente vedo intavolata una discussione più ampia a posto che ne so su un progetto o qualcosa su cui stavano lavorando questa volta più ampia sul discorso della cena e del mondo di come sta andando avanti questa cosa che sembra sempre più grande di noi perché per quanto la legione sia la legione gestisce cose comuni e moratali di solito e questo questo scenario apocalittico probabilmente mette in tensione anche anche gli specialisti dunque dici che stiamo discutendo mentre ci stiamo addobbando per la cerimonia nelle nostre nelle nostre camere può essere anche perché se non sbaglio sono tutte e tre donne gli specialisti tra l'altro sono gli originali quelli della prima missione è vero è il terzetto da cui tutto è partito bello e più che nei vostri alloggi a me come dire io mi vedrei che il il quatermastro ha preso possesso di un edificio un po' più grande ha fatto sistemare casse eccetera e alla finire dovete andare da lui perché comunque cioè è lui che vi dà poi le uniformi d'ordinanza quelle cose lì e quindi avete appena dati là vi è stato messo sul sul bancone il pacco di vestiti con le mostrine e cose del genere e tipo ci sono le avete presente tipo le panche e un ambiente abbastanza spoglio in cui alla fin fine vi state vi state vi state cambiando è comunque come dire un un inquadramento di lavoro per voi una volta quando il mondo era più normale queste cose effettivamente si facevano quando la legione si presentava a un regnante a una città-stato e cose del genere si andava in altri uniformi e tutto il resto è tanto che non accade quindi probabilmente il Quartier Mastro ha dovuto aprire qualche cassa che da un po' era chiusa sotto le pile di cose più pragmatiche ah sì farei un side flash al Quartier Mastro che rapidamente è seduto a un qualche tavolino con delle carte e gli viene detto servono le uniforme da parata e lui dice sì le uniforme da parata poi lascia cadere completamente l'espressione facciale che aveva l'uniforme da parata merda c'è quel lacrimo su serio non è una battuta oh cazzo e incomincia a urlare però comunque questo è un side flash comunque come le cose più in fondo ai bauli cioè la cosa l'ultima cosa che poteva servire sì sì esatto e soprattutto divisa magari in dove c'era posto perché tanto cosa servono e quindi immagino la gente che scarica tutti quanti i carri praticamente apre praticamente tutte le casse fino a vedere di mettere in ordine quel che serve con Quartier Mastro che urla ok questo è stato nell'immediato passato siete siete lì fuori c'è questo non tempo quindi da questa mattina fino ad adesso la giornata è sempre stata con una luce più o meno costante grigia il vento continua a soffiare alimentando sottolineando un po' l'alienazione lo stordimento il grigio della città non aiuta sentite i tacchi i tacchi cadenzati dei militari che camminano in giro e tutto sembra un po' strano Seneca è mezza addobbata in realtà lei è un po' perfettina quando le si dà il tempo quando non deve tenere insieme le budella e i legionari sul campo dunque lei prende il suo tempo anche perché è una bartan e dunque si fa si deve preparare addobbare tutti i suoi gioielli i suoi capelli deve intrecciarli in mille modi diversi eccetera però lei guarda fuori dalla finestra mentre fa questo probabilmente addirittura fuori c'è l'assedio immagino lontano che comunque è ancora impetua sti nuvoloni eccetera eccetera e niente ascolta quello che stanno dicendo i compagni tra sé e sé prende la divisa da parata parlando quasi a nessuno un grano di normalità e antica gloria fare quasi assurdo in questo momento e anche lei appoggia giù i vestiti e si mette a fissare la finestra poi quasi ricordandosi che per amba probabilmente la cosa è ancora peggiore o potenzialmente diversa si gira verso di te e ti fa e tu? cosa ne pensi mia cara amica? Amber è estremamente in ritardo nel preparare l'uniforme e sta da parecchi minuti smontando e rimontando il fucile principale che ha lucidato per portarlo con sé a mo' anche dicci meglio da parata e lo sta osservando arricciando le labbra non soddisfatta ogni volta puntualmente negli ultimi minuti l'ha rismontato rimontato pezzo dopo pezzo lisciando e pulendo sembra quasi sovra pensiero si volta però dopo un paio di secondi di cosa? non ero attenta il barone attraverso per ciglia si sposta diciamo lasciandoti una visione migliore verso la finestra vabbè della seconda apocalisse la prima l'abbiamo almeno momentaneamente battuta con ferro acciaio ma se cominciano a dare fuoco al mondo beh di solito un piano o un'idea ce l'ho ma in questo momento la soluzione mi sfugge credo che siamo fortunati allora perché non è nostro compito trovare quella soluzione Valeri Seneca avendo finito con i suoi treccioni si gira e ha un gioiello in mano e lo apre e dentro il gioiello ci sono dei semi e ve li ve li porge contro cioè vi porge il gioiello e dice questa è una tradizione zemiati però nella regione abbiamo imparato a mischiare un po' le cose tutto quello che funziona e sorride un po' Amara e dice non so voi ma io me ne metto un paio in tasca perché come abbiamo visto non sempre si ha tempo per i riti funebri delle persone guardando la foresta che sta bruciando là fuori i zemiati piantano un albero dove muoiono e lei lascia la cosa non detta però insomma sottointende che se si dovesse cadere per qualche motivo improvviso come spesso succede nella guerra soprattutto in questa guerra beh ci sono i semi in tasca che diventeranno un albero Amber li osserva e poi li riporge a Seneca odia gli alberi ostacolano la visuale e si mette a ridere Amber è serissima sembra non capire la risata ma no la risata non è felice fa un paio di passi tornando a smontare il fucile ma tenendo d'occhio le due compagne Valerie Barone anche lei ridacchia tristemente sotto anzi sotto i baffi dietro la maschera probabilmente e rivolgendosi a Seneca gli fa beh dato che gli alberi danno così fastidio alla nostra compagna vedi almeno di durare più a lungo che puoi per quanto mi riguarda non ho intenzione di morire almeno non da questa parte delle montagne c'è ancora troppo lavoro da fare e torna a fissare l'orizzonte lei annuisce e quando poi è finalmente pronta e immagino che si avvia verso la porta eccetera eccetera non che ci siano altre discussioni sul davanzale di questa finestra rimane un seme con in fondo la foresta che brucia e la tempesta nel cielo e allora possiamo chiudere la scena se non avete altro da dire da fare magari con Barone che essendo nobile è probabilmente più pratica con vestiti complessi e dà una mano ad Amber a bottonarsi e mettersi del tutto in tiro ah sì penso che dalla combricola facciamo andare davanti Barone magari per etichetta è lei quella più pratica è sempre stata un po' Fred Amber sembra semplicemente che si annoi molto più in fretta nelle discussioni che non riguardano i pieni militari o le missioni ultimamente è un po' più distaccata di quanto già parzialmente psicopatica era prima vabbè questa cosa si sta so pratico questo cambiamento comunque c'è anche dentro a molti altri legionari incluso Seneca che è diventata da Cala Rosa forse un pochettino più fatalista e anche lei ha incominciato a mettere le mani negli intrugli della scienza proibita dell'alchimia eccetera eccetera dunque effettivamente anche lei forse si vede un po' non disorientata ma forse un po' in cerca sul lato spirituale delle cose tant'è che sta sta giochicchiando con con tradizioni di altre culture mi piace il sottotesto che come dire c'è questa simbologia dei semi quando alla fin fine l'unica cosa che fa un bosco in fiamme è fertilizzare la terra quindi questa cenere che cade comunque vista da un seme è cosa buona ed è come dire veramente veramente figo vedere questo terzetto come dire verso fine campagna rispetto a com'era partito nella prima missione i chilometri si sentono eh sì ok se avete qualcosa come dire da inserire in questo in questo pomeriggio altrimenti facciamo un flash alla sera in cui vi dico cosa succede alla manifestazione giusto per darvi un'idea di come di che area tira qui dentro questa scena serve solamente per come dire darvi un darvi un inquadramento di dove siete finiti ma si può anche partare avanti o come un'idea di una micro micro scena uno squarcio di mi sfugge il nome della Albrecht che sistema il colletto a Korov che non ci sta nella tenuta da parata si trova scomodo Laggarossi allora Laggarossi oddio perché se no qua scattava scattava un'altra guerra che non ci sono di secondo me Korov non si fa troppi scrupoli no da parte sua no ma potrebbe prendersene quindi Korov sei una tenda sbagliata con le maschere è facile confondere esatto una tenda è una tenda come dicevo nei grandi saggi in guerra ogni buco si ok probabilmente effettivamente Laggarossi aiuta Korov a sistemarsi addobarsi e viceversa e lui si lamenta che qua sono queste scenate mi immagino la gag dell'uniforme che gli tira e si lamenta che gli hanno dato la taglia sbagliata è una taglia più grande che abbiamo eh no mi serve quella dopo e dice certe battaglie non le si vincono con la forza brutta che hai tu le si vincono con la finezza e gli e tipo gli stringe eccessivamente che so magari un paio di bracciali o una cintura o qualcosa del genere conclude borbottando ma si fa portare fino a quello che lui vede come un patibolo ma è la piazza di presentazione immagino io io vorrei ambientare un'altra scena tra vai vai tra andrei astrovic che tra l'altro adesso è pelato si è fatto rasare la sua bella chioma e dunque si rivela che la sua cicatrice quella che si specula sia per un qualche tipo di di malfatto che lui abbia della quale lui abbia colpa e cose del genere per la quale lui abbia si sia unito alla legione ma che in realtà adesso si rivela che è una cicatrice di guerra questa che gli va fin dietro al cranio che sembra un'artigliata non si sa bene da che cosa da chi da che creatura comunque qualcosa di grosso e porta una spada adesso in cintura cosa che per lui è insolito porta una spada vicino al suo pugnale ricurvo le due armi stonano un po' perché sono di cultura e fatture diverse però così è la legione lui è in piena regaglia si è addirittura fatto tagliare i capelli c'ha ancora il suo barbone selvaggio quello non glielo conquista nessuno però lui va da lui si fa fa una visita a a dove è stato spostato il lazaretto dove c'è Red Laughing Mask e non so in che stato è Red Laughing Mask quante ferite ha a sto punto cioè riesce a camminare riesce a stare in piedi buona domanda ma io me lo immagino ben dato a mo' di mummia sicuramente è ancora mummificato non mi ricordo vediamo un po' ha corruzione 5 una ferita di livello 3 e due ferite di livello 2 cioè per lì è in orizzontale dunque nel senso non sarà presente e ha un trauma ok e quello che fa è che si siede lì vicino per un attimino quei 5 minuti prima dell'evento poi Andrei è sempre in ritardo dunque chi se ne frega e niente gli fa compagnia ma lui ti saluta comunque nonostante la situazione molto gioviale e di alti spiriti sì gli dice gli dice appunto no comodo cioè a riposo se cerca di salutare cose del genere militarmente e prima di tutto gli sorride finché diventa sai finché diventa quasi imbarazzante lo guarda e sorride come se stesse vedendo un po' se stesso di una volta e poi gli dice Red Luffy Mask ti sarei chiesto perché sei stato promosso soldato nel tuo stato che sei e lui risponde al tuo sorriso con uno altrettanto ampio suo grande classico e nel nel suo annuire a qualsiasi cosa tu stia dicendo perché sei comunque un superiore lui è l'ultimo arrivato e va per annuire anche al sarà richiesto perché sei soldato e si ferma e fa beh in realtà no è bene così abbiamo bisogno di gente con una testa sulle spalle dentro la tenda di comando ah sì 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 non capisci bene dove vuoi arrivare ma va benissimo va benissimo perché è la maniera del quartier mastro quella di prendere la gente all'improvviso soprattutto con i doveri gli dice prende il suo pugnale quello che è l'unica arma che lui ha portato fino adesso gli rimane solo la sua spada ed è questo il suo pugnale di rito e glielo glielo mette sul comodino gli dice se vuoi se vuoi accettare questa cosa tu diventerai il mio prossimo apprendista perché ci sono molte maniere di servire la legione e io ho bisogno di qualcuno come te che è volontiroso e capace di impiegare il tutto e per tutto per la legione e ancora una volta vedi che lui nonostante bende e altro continua vigorosamente ad annuire ogni tua parola poi a metà del discorso comincia a scuotere la testa come se volesse dirti di no poi lo vedi che si ferma riprende ad annuire e è chiaramente un po' confuso dalla simbologia del pugnale dal discorso che gli stai facendo e probabilmente per il fatto che l'hai preso di sorpresa diciamo si mette dritto fa il miglior saluto che pone il suo stato fa tanto signore farò al vostro servizio e lui cade un po' nel silenzio di aspetta cosa ho appena accettato lui si alza lascia lì il pugnale ovviamente come offerta e diventa molto cupo e dice pensaci laughing mask pensaci e poi se ne va sì lo farò e ti lascia andare ancora più confuso di prima non gli dà nessun ordine come sempre molto vago e se ne va con questa proposta in aria e si unisce alla alla cerimonia infilandosi con gli altri ranghi e sorridendo ad avi e facendo un cenno di annuimento al commander a black echoing lion e guarda la film mask lo vediamo come programma di conclusione che ha preso in mano il pugnale e lo sta studiando ma non si capisce bene semplicemente perché gli sembra una cosa preziosa e raffinata o perché capisce cosa voglia dire ma è lì che lo studia no in realtà è un pugnale che addirittura è scalfito cioè addirittura forse avrebbe bisogno di essere affilato è un pugnale il quale ma anche la fattura non è cioè se è rituale me lo immagino sì almeno con l'elsa lavorata o qualcosa del genere assolutamente ma è lavorato come potrebbe essere un pugnale sai per uso civile cioè sai un pugnale di legno dunque mi immagino Red Lantern Mask che lo guarda come si guarda un indovinello come per dire da qualche parte deve esserci la risposta sì esatto ok arriviamo alla piazza d'arme ed è ed è quello che a naso dovrebbe essere il tramonto di questa giornata che è ferma in questo in questo grigio grigio intorno grigio sopra grigio che scende dalle nuvole grigio spinto da un vento che non si vede ma anche il vento sembra grigio dopo la vostra sortita l'assedio fuori si è fermato probabilmente anche le forze assedianti stanno valutando quello che è successo e capendo come agire voi che venite dal nord ovest sapete che questa è una pausa prima della tempesta sapete che dietro di voi c'era Blighter e che non mancherà tanto perché le sue forze arrivino a rinforzare quelle già temibili di render ma adesso tutto appunto sembra fermo in una bolla e vi guardate intorno nei vostri vestiti migliori con il tempo di esservi lavati i capelli pettinati sistemati come non capitava da molto tempo sicuramente dopo Eternark non c'è più stato modo di di vedersi nella versione migliore che che voi potreste essere vi guardate e sembrate effettivamente se non pochi nel numero ma sembra la legione quando quando si presentava e la gente vi acclamava oppure la gente vi temeva la gente diffidava di voi per i vostri standardi di fattura imperiale però con una riconoscibilità una un'estetica e una fierezza adesso manifesta nella nella simbologia delle vostre delle vostre divise dei vostri gradi adesso esposti che da tanto non vedeva non vedeva la luce siete su questa piazza d'armi e la seconda cosa che vi balza gli occhi dopo appunto la riconoscibilità della legione è la quantità di persone qui presenti vi guardate intorno e oltre ai vostri numeri un canto rapido di chi è abituato a pesare le forze amiche e nemiche stimate che siano presenti più di 500 armati schierati sulla piazza a cui sommare quelli che fanno i giri di ronda che comunque sono presenti e probabilmente un altro buon numero a sostenere quelle che sono le funzioni irrinunciabili di questa fortezza sono tutti divisi per per battaglione per appartenenza e una lunga serie di standard si presenta in fianco al vostro di fronte a voi il il capitano Khaima Khan si presenta con il suo staff quasi totalmente allermani con le loro anche loro in armatura ma da parata con la barba pettinata e ingioiellata per fare un discorso all'intera piazza il discorso inizia con una serie di figure puramente formali probabilmente cose ben radicate nell'etichetta militare al Darmani con una serie di riferimenti a quella che è probabilmente un'analdica tipica di questa regione di questa classe militare il discorso poi culmina nel momento in cui comincia a chiamare all'appello tutti quanti i vari ranghi presenti quindi comincia urlando a questa piazza e qui presenti ci troviamo riuniti sotto lo stesso cielo nelle stesse mura con ciò che resta delle forze Aldermani gli alabantieri di Jan il terzo tiratore reali i cavalleggeri di Royos il sesto e ottavo corpo dei fanti liberi ma con loro anche forze zemiati i razziatori e i primi assalitori la guardia meccanica orita i primi fanti di Sharyana e gli arcieri Ajanas di Barta e i cacciatori di ombre di Paniar e con loro altre centinaia di militari che sono sopravvissuti ai corpi e ai comandanti a cui prestavano servizio che ora si ritrovano riuniti nelle forze libere di Calisco contro quello che è l'inumano assediante e da oggi ad unirsi a queste nostre forze niente di meno che la libera legione che porta con sé una forza di rivalsa che viene da Etanmark come molti di noi che sono sopravvissuta a quella che per alcuni è stato un segno di induttabile sconfitta ma che ci ha condotto qui a portare la nostra seconda battaglia la nostra futura resistenza abbiamo cibo abbiamo risorse più di quelle che riusciremo a consumare e abbiamo l'obiettivo di arrivare alla primavera quando dall'est le forze saranno riunite e potranno di nuovo rispazzare il Cinder King come già una volta è stato ricacciato indietro fino ad Etanmark questa volta per riportarlo definitivamente nelle terre da cui appartiene quindi questa sera nuove forze si uniscono alle nostre armate continuiamo a crescere nonostante gli assedianti che provano a farci cadere e noi non cadremo noi vedremo la primavera e ci riuniremo alle forze dell'est in questo dobbiamo porre la nostra fede e su questo dobbiamo basare il nostro servizio alza le mani al cielo entrambi i palmi verso l'alto e la corte e rompe in un in un frastuono d'esultanza sostanzialmente andrei sotto la barba borbotta al marshal ad avi vabbè perché sono due vecchi compagni dunque è facile che si facciano dei commenti durante questo tipo di cerimonia gli dice in verità non eravamo di passaggio vogliono dire a biridacchia è stranamente di buon umore perché per la prima volta ha delle mura attorno e nell'ultima missione non è morto nessuno cioè è una strana combinazione di fattori positivi ognuno poi la viva a modo suo però le condizioni che avete intorno e il discorso del comandante hanno una evidente seduzione la città è imponente dal punto di vista militare e per un istante vi sembra anche possibile credere a quello che lui dice credere che qui si possa tenere la posizione nel retro della mente di chi invece ha una visione più chiara il che vuol dire probabilmente tutto l'alto staff della regione tutti gli specialisti e anche probabilmente i soldati più smaliziati della legione sapete che appunto blight sta arrivando e sapete avete visto combattere render e sapete che se volesse potrebbe sfondare i portoni di calisco di sua propria mano se non lo fa forse ha delle motivazioni per farlo c'è come dire una malia che in qualche modo tenta di sedurvi di un'apparente sicurezza un'imparente stabilità ma sotto sotto sapete che è apparente regole speciali di fort calisco non potete uscire di qua se non trovate un modo di uscire ma Giannakus vi reputa parte delle sue forze e non vi farà uscire di sua volontà da qui immagino a livello di tempistiche anche pochi attimi dopo lo scambio di battute tra maresciallo e quartiermasto Black Echo in Lion si gira e con sguardo truce escutendo la testa usate l'umorismo che vi rimane per per il momento giusto ne ho sentiti di discorsi disperati fatti solo per rinvigorire le truppe prima di un'inevitabile sconfitta ho come idea che il nostro gentile ospite abbia intenzione sì di vendere cara la pelle speriamo di non finire sul conto anche noi e poi si gira non aspettando neanche una risposta e torna a mostrare il volto alla parata insomma sì il quartiermasto sempre anche riguardando la cerimonia risponde a questa cosa con un'unica parola che è planesworth abbiamo visto a planesworth sta cosa e abbiamo visto a planesworth anche le fiamme e il fumo verde di blighter che ha avvolto interamente la città però questo non lo dice insomma è ancora fresco nelle nostre memorie ci sono tutti quanti i raffronti del fatto che planesworth fosse come dire una cittadina di campagna però nel frattempo e questa invece è una fortezza militare nel frattempo comunque vi siete resi conto che i broken stessi stanno diventando più forti le loro fira più numerosi quindi nella debita proporzione c'è anche il fatto che avete come dire sapete che il polso del vostro nemico adesso è ben più pesante di quanto non fosse a planesworth immagino che dovremmo aggiornarci di questo più in avanti in luoghi separati meno rumorosi assolutamente sì la cosa finisce come dire come tutti i salmi finisce in gloria quindi esultanza delle truppe dopodiché saluti baci abbracci i corpi militari si mescolano rivedete effettivamente facce note che avete visto ad Etanmark oppure che avete visto nella riconquista dell'Aldanmark quindi qui dentro c'è un po' di tutto da come d'altra parte appunto è ormai la vostra legione vecchi veterani che hanno combattuto cinque guerre e reclute tirate fuori dalle loro dalle loro fattorie quattro mesi fa è tutto un po' una mescolanza se guardate ai ruoli di comando se guardate ai ai generali a chi porta come dire il comando di questi gruppi effettivamente vedete vedete parecchie facce note oppure parecchie facce che avete già incontrato fatto questo la come dire l'attimo di esultanza si raffredda velocemente come si raffredda l'aria appena il chiarore del sole in questa grigia giornata volge al buio e tutti quanti tornano ai loro doveri e ai loro alloggi per ora voi non avete doveri da come stanno andando le cose Commander ti fa l'idea che sarai chiamato a riferire a Giannakus entro breve in ogni caso nonostante il suo morale interiore chiamiamolo il comandante fa buon viso cattivo gioco e prende parte diciamo nell'esultanza nella parata nel almeno nel bacio abbracci saluti esatto lo spirito e il morale dei soldati anche perché non è nonostante la verità non è che sia una cosa che può fare del male mentre tanto vale che si prendano almeno una serata di gloria mentre il Commander fa questo comunque quartiermastro cerca di incontrarsi con il suo con i suoi pari o con la sua controparte di Fort Calisco nella nella mischia festeggiosa e ho la sensazione che facciano entrambi cattivo viso cattivo gioco perché sono entrambi quartiermastri e devono gestire le supply e penso che cercano di coordinarsi perlomeno al meglio che possono durante questo periodo ok vieni come dire vieni portato in quella che è una farraginosa alternanza di strette di mani e presentazioni capisci che Fort Calisco è gestita in modo altamente più burocratico di come non sia l'agile gestione della legione il corrispettivo del tuo ruolo praticamente è spartito almeno su tre persone che tengo innumerevoli registri con come dire figure notarili sotto di loro e cose del genere da come si muovono da come parlano e da come sono strutturati è chiaro che loro qui hanno effettivamente un come dire un tesoro sotto i piedi nel senso che cibo materie prime e ricchezza non è quello che manca a Calisco rispetto al numero di teste è una città estremamente ricca pur essendo assiediata bene tra l'altro finisce il progetto del mercato nero proprio adesso esattamente le ragioni di tutto questo le potreste mettere insieme come dire sulla base della storia recente Fort Calisco era stata assediata durante la prima conquista dell'Aldelmarc e come dire man mano che il Sinder King avanzava c'era stato tutto il tempo e il modo di preparare la città a un assedio estremamente lungo che poi non è arrivato perché praticamente su Fort Calisco l'avanzata del Sinder King è stata rimbalzata indietro quindi avete ricominciato a muovervi indietro fino ad arrivare ad Ettenmark quindi praticamente Fort Calisco era carica di viveri pronta per un assedio pronta per sostenere una popolazione probabilmente dieci volte di quella attuale quindi come dire i sopravvissuti militari che sono assediati qui dentro hanno effettivamente un come dire magazzino e magazzini piene di materie e questo diciamo lo capisci molto in fretta ed è un'informazione molto utile l'asset rating di Calisco è 2 stiamo entrando come dire in maniera morbida in fase di campagna quindi farei la fase del tempo che passa allora pressione e tempo aumentano ma la pressione non lo fa a causa delle modifiche di missione il tempo sostanzialmente si riporta al valore che aveva prima di entrare a Calisco quindi siamo a 6 tick sul secondo clock della stagione a questo punto si consuma il cibo si consuma il cibo ok segnato e con questo abbiamo chiuso la parte del tempo che passa entriamo in fase di campagna e quindi abbiamo la gestione delle azioni di campagna e quello che vogliamo vogliamo mettere di ruolo libero per quello che succede ok domanda diritto Marshall quanto morale e quante azioni abbiamo 10 di morale 10 abbiamo il morale a 2 cifre sarebbe a 12 diritto che non può sfondare il tetto ok dunque abbiamo 2 azioni ricche e belle giusto domanda sempre al Marshall abbiamo feriti che hanno bisogno di recupero o abbiamo stressati che hanno bisogno di destressarsi non in gruppo il massimo stress c'è la Lagrossi che ha 4 poi Seneca ha 1 di stress Kirisha ha 2 di stress per le ferite c'è solo Red Laughing Mask ok ma credo che Red Laughing sia esatto diamo la presidenza tutto il resto poi rimane qualcosa dunque niente mosse di recupero possiamo interamente utilizzarle al fine di potenziare quello che abbiamo da quanto ho capito esattamente per la questione del uscire da Calisco dovete come dire dovete in qualche modo guadagnarvi l'uscita e sarà come dire un lavoro di che vi ci metterà il tempo in cui voi siete qui la cosa è di regolamento volutamente aperta a quello che come dire volete volete fare voi l'idea è che dovete rivolgervi a qualcuno che non sia il potere ufficiale quindi fondamentalmente o corrompere qualcuno oppure trovare qualcuno che abbia dei giri come dire dei giri loschi in città che faccia contrabbando che che abbia l'opportunità sostanzialmente di aprire una porta e coprire la vostra uscita a tal proposito se c'è sta cosa odora o puzza di progetto a lungo termine o spesa di supply esattamente queste sono due come dire due soluzioni abbastanza immediate prenderla in un motto o prenderla nell'altro allora io vorrei solo dire si concludere già solo con i laborer che immagino che si mischiano con la popolazione con l'entourage degli altri eserciti uniti a Forcalisco e si conclude il progetto del mercato nero questo qua che da più uno di loadout utility e le missioni degli specialisti uso due tic di laborer se non sbaglio sì ne ho ancora uno che rimane aperto per il prossimo progetto che apriremo probabilmente adesso io sistemerei questa cosa prima di fare le mosse di campagna cioè vorrei avviare un eventuale progetto prima così sappiamo cosa abbiamo dopo pulito da prendere risorse o reclutare o cose del genere cosa ne dite ok dunque lascio a voi in realtà avete barrabbiamo un progetto a lungo termine da definire per uscire di qui secondo me basta dare un paio di monete d'oro ai clarinovich mandarli fuori una sera e tornano con una soluzione è un altro discorso tornano con un sacco di juta un paio di denti e una coscia di pollo e ti dicono che è tutto a posto tutto a posto ma cosa avete fatto tutto a posto ok allora dunque ci contattiamo effettivamente il sottobusco semilegale semilegale degli altri eserciti per uscire di qui ho capito bene si può fare credo che sia la nostra descrizione per rompere la guardia cittadina ok o quel che come come si manifesta questa cosa c'è una decisione che viene fatta unanimamente da tutti i ruoli di comando e poi viene delegata cosa cioè il quartier mastro è se ci troviamo o magari da qualche parte la luce di torce nelle nostre stanze è d'accordo se ne guardiamo la nostra mappa è d'accordo di uscire di qui per via appunto della visione traumatizzante che abbiamo avuto di planesworth qui si ripeterebbe forse durerebbe un po' di più ma si ripeterebbe sky dagger per quanto è più impestato da arrivarci per noi è più impestato da arrivarci anche per il nemico lì effettivamente si potrebbero resistere si potrebbero sotto il punto di vista del quartier mastro si potrebbero far durare le proviste che abbiamo molto più tempo perché andrebbero disperse di meno lui dice così ed è più molto più serio e molto più tosto e molto più non lo so professionale interessato a raggiungere l'obiettivo addirittura ha smesso di bere da qualche da qualche missione dunque abbiamo il doppio dell'i con la disposizione si può usare esatto si può usare per fare molotov dunque cosa ne dite comunque io me la vedo come una decisione che il trattico diciamo di comando tenta di evitare inizialmente o posticipare il più possibile e poi pian piano come un cappio che si stringe al collo diventa una cosa obbligatoria cioè o con i metodi nostri o non usciamo e dobbiamo uscire se ci fosse il Lord Keeper probabilmente direbbe una cosa del tipo e lo dice lo dice lo dice andrei al posto del Lord Keeper se non c'è il Lord Keeper o magari addirittura si riferisce al vecchio Lord Keeper cos'era il Doge dice lui direbbe che la legione non si è mai fatta pressare permanentemente sotto gli ordini di una qualche nazione ha sempre fatto la cosa sua e ha sempre ripagato questa cosa il fatto che rimanesse indipendente e non iniziamo adesso a fare cose nuove di questo tipo che veniamo pressati sotto gli ordini di qualcun altro a tempo indefinito Avi cosa ne pensi ti ho visto ti ho visto e lo dice con molta cautela ti ho visto ti ho visto più più rilassato del solito in mezzo a queste mura cosa ne dici di sostituire queste per Sky Dagger sono semplicemente per una giornata più sereno bisogna prenderci quel che arriva quando arrivano per quanto riguarda la scelta credo che sia quasi offensivo che credano di poterci tenere qui capisco il perché ma ai miei tempi avrei preso a testate il Kaimaham credo che faremo lo stesso anche se in un modo leggermente diverso come a Kaimaham ne abbiamo visti molti nelle come si chiamavano le piane dove abbiamo avuto questa grossa sconfitta colossale ad Ettenmark Fields ne abbiamo visti molto come a Kaimaham cerimonie lunghi discorsi oh sì e lasciate perdere la sensibilità l'insensibilità delle mie affermazioni ma sono tutti morti quindi forse si dovrebbe cominciare a chiedersi se è un modus operandi che premia i propri sforzi sì sono tutti morti inclusi quelli che facevano così che tiravano alla stessa corda nella nostra legione e dunque effettivamente per preservarla e lasciano un detto si tratta solo di capire se rivolgerci all'oro o agli esplosivi ma qui sono certo che saprete scegliere l'opzione migliore mi occuperò come sempre di darvi gli uomini migliori lui dice Andre dice offre che lui comunque ha lasciato qualche contatto perché ha lasciato qualche contatto con il sottobosco meno legale meno meno ufficioso degli altri eserciti immagino che tipo tramite i corpi zemiati che non so se avete notato ma sono i razziatori e gli assaltatori sono i tipici zemiati loro erano arrivati qua per attaccare poi per sbaglio li hanno reclutati a difendere esatto no beh comunque a parte lo sforzo della cerimonia iniziale voi capite che qui dentro c'è di tutto dagli ex galeotti a bande mercenarie a veramente signori della guerra riqualificati diciamo che c'è effettivamente una come dire una commissione anche semplicemente di 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 ordini e di diciamo punti di vista che è effettivamente giustificabile solo perché là fuori avete un broken e un esercito di morti ma qua dentro è come stare in una babele c'è gente che probabilmente nell'aldermarck civile adesso sarebbe appesa ad una forca quindi qui dentro è effettivamente una come dire una macedonia umana di di qualsiasi estrazione dunque si il quartiere maestro ha dovuto stringere contatti con questo miscuglio e sotto bosco di persone piuttosto che magari con questi burocrati di alto livello per fare effettivamente funzionare le cose dunque lui ce l'avrebbe un punto di approdo con con il forte per uscire senza senza dover passare per i canali ufficiali ovviamente verremo negati perché voglio tenerci qui gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti potete rimanere in contatto con questo progetto su facebook instagram e alla mail gente di ruolo chiocciola gmail.com per commentare criticare chiedere e suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere fatelo conoscere date una mano a diffonderlo ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare di giocare di giocare